A Cassata Gattapone di Gubbio ci si prepara al nuovo anno scolastico con un incontro svolto in ciascuna delle aule assemblari dei duplessi scolastici rivolto ai genitori delle classi prime. Quest'anno, grazie ad un'attività di orientamento informativo svolta durante alcune giornate appositamente programmata e rivolta esclusivamente alle classi terze delle medie e formativo che si è esplicitata attraverso le attività dei laboratori di continuità, sono aumentati gli iscritti e il numero di primi classi che hanno toccato quota 11. Le prime che ci hanno concesso in organico di diritto sono 11, quindi sono una prima in più dell'anno scorso, quindi la popolazione cresce e quest'anno è oltremodo difficile organizzarsi per garantire un rientro in sicurezza a tutti gli alunni. Il nostro modello di rientro è un modello che contempera sia didattica in presenza che didattica a distanza, su 32 ore settimanali ne faremo 24 in presenza scandite in 4 giorni, più 8 ore a distanza e per distanza intendiamo sia distanza sincrona, cioè videoconferenze, che distanza asincrona, cioè materiale, compiti assegnati e consegnati in piattaforma con una scadenza precisa. Intorno a questo sintetico modello didattico c'è ovviamente tutto un sistema di regole che ogni scuola in questa fase sta mettendo a punto. Oggi stiamo incontrando i genitori delle classi prime per condividere con loro e quindi anche con i loro figli una serie di regole e di norme che ci permetteranno di limitare al massimo le possibilità di contagio e laddove ciò avvenga di poter monitorare il contagio stesso nel momento in cui l'Asla ce ne chieda conto. Perché la scuola viene divisa in compartimenti, ogni classe sta ferma in un comparto, gli alunni non possono spostarsi nella scuola liberamente e anche le ricreazioni vengono svolte sul piazzale o in classe in maniera separata. Ciò ci permette di monitorare gli spostamenti di tutte le persone, docenti e alunni all'interno dell'istituto e quindi di poter tenere il controllo della situazione.